Rimettere al centro il rapporto di Francesco con la Chiesa, la relazione che lega il poverello ai Vescovi che hanno accolto la sua vocazione. Sono queste le basi da cui parte il libro Francesco e i Vescovi di Assisi, storia di un rapporto, scritto dal frate conventuale padre Felice Autieri, che è stato presentato sabato scorso alla presenza di padre Pietro Messa, docente di Francescanesimo alla Pontificia Università Antonianum di Roma. Dal professore Nicolangelo D'Acunto, ordinario di storia medievale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal Vescovo Sorrentino e dalla giornalista e conduttrice TV Safiria Leccese, che ha moderato l'incontro. Il volume, pubblicato da Edizioni Francescane Italiane, vuole delineare il percorso umano e spirituale vissuto tra Francesco e i Vescovi di Assisi, Guido I e Guido II, e raccontare la sua storia da un punto di vista poco noto e inusuale.